Mi telefono la mia gente e mi dice c'è un regista importante, importante, e anche lì tutte le volte si parlava di Fulci, tutti sottolineavano il suo artigianato umile piuttosto che la sua genialità, poi il tempo e i critici a posteriori daranno ragione a Lucio. Dice che ti vuole conoscere per un lavoro, un film, naturalmente, ecco i motivi alimentari, mi precipitai in pomeriggio e vedi questo, incontrai questo cagnone simpaticissimo che dissi tu sei troppo forte, ma io te voglio bene, ma io non posso far meno di te. Prima ancora di stringerci la mano, poi giunse con il suo romano, che poi usava con la civetteria dei cinematografari, diceva Fellini, io ho conosciuto, ho lavorato con Fellini, ma gli dico ma come può dottore, ma che dottore, ma che sta a Dio, te sento alla radio, mi chiami dottore, ma su dai tu sei troppo forte, alla radio come va a fare tu, non va a fare nessuno, mi coprì di complimenti. Allora io dissi, grazie dottore, ancora, vuoi venire a fare film con me? Io dissi sì, senza aver visto il copio, subito, la fame è, perché la fame è la necessità di lavorare, è la curiosità, è il piacere di lavorare, guarda che dovevo andare in America, è meglio ancora, a New Orleans, te piacciono i cocodrilli? Lui chiamava coccodrilli, hai alligatori. Dico sì, no, non mi piace, sta attento, allora te sei magno, allora, morale, mi dai questa copione, questa sceneggiatura? E io evinco dalla lettura, so leggere una sceneggiatura, che per quattro quinti del film, io avevo una parte lunga, molto importante, che fossi io, o che fosse qualsiasi altro attore mondiale, era la stessa cosa, per cui, perché me? E lui mi fa, e io glielo dissi, dico lui, io ti ringrazio, eravamo passati al tu, per avermi scelto, costo un pochino io, ma come mai hai scelto proprio me? Oh, io devo stare 18 giorni a New Orleans, me faccio due palle così, almeno mi porto uno con cui chiacchierare. Ecco, mi porto uno con cui chiacchierare, Lucio amava molto chiacchierare con me e io con lui, era un pozzo di aneddoti e di storie del cinema, uomo sapido, intelligente, acuto, molto buono, Lucio era buonissimo, la sua vita non era stata felice, non è mai stata felice. E voleva un amico a New Orleans, per cui, che io avessi la maschera o non avessi la maschera, quello che gli serviva, non importava, quello che gli serviva era un amico a cui ammiccare quando diceva stop, quasi a chiedermi, era buona no? Ma sì, se per far meglio, è famola allora.